Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Giorgio Mastrota in questi giorni è stato ospite di Serena Bortone alla trasmissione Oggi è un altro giorno dove ha rilasciato appunto delle importanti dichiarazioni sulla sua vita e la sua carriera. Mastrota ha ripercorso dinanzi all'abortone, i momenti salienti che lo hanno visto crescere come uomo e poi conduttore di televendite. Ovviamente non sono mancati accenni alla sua vita privata. Ed è proprio qui che i fan sono rimasti sorpresi quando ha fatto una dichiarazione su Natalia Estrada. Infatti Mastrota con la Estrada ha avuto una storia d'amore, storia poi finita. Ed è stato proprio il re delle televendite a raccontare all'abortone che cosa è successo tra loro due. Le sue dichiarazioni arrivano dopo diversi anni dalla separazione da Natalia. Tra loro scattò il cosiddetto colpo di fulmine in una trasmissione di Telecinco. Da allora hanno deciso di frequentarsi e vivere la loro storia. Fisicamente sono rimasto molto colpito. Matrimonio finito? Allora ne parlavano tutti. Era il 1998. Nostra figlia Natalia era piccola. Aveva tre anni. Queste le dichiarazioni di Mastrota all'abortone. Che poi ha spiegato come all'epoca della separazione i due si erano in un certo senso si erano distratti. Era passato che fosse stata colpa sua, ma non è così. Alla fine avevamo bruciato le tappe. Tutti e due avevamo attraversato un momento così. Ci eravamo distratti. Solo che probabilmente la sua distrazione si è vista un po' di più e ha continuato. Io ho fatto un po' lo sciocchino. Così ha concluso la sua intervista Mastrota. Alludendo che Natalia Estrada lo abbia tradito in maniera molto più frequente.